Io ho deciso di dare la priorità a Lucio Battisti, autore. Io ho deciso di dare la priorità a Lucio Battisti, autore. Io ho deciso di dare la priorità a Lucio Battisti, autore. 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 e niente sapeva, eppure quello che diceva sì, tu lo sai, davanti a me c'è un'altra vita, la nostra è già finita, è nuove notti, è nuovi giorni, cara vai o torni con me, davanti a te ci sono io o un altro uomo, è nuove notti, è nuovi giorni, cara non odiarmi se puoi. Grazie.